Quella di domani che andremo a incontrare è la squadra più in forma del campionato, una squadra che sta attraversando un buonissimo momento, probabilmente il migliore di questo inizio stagione, una squadra attrezzata, una squadra che sappiamo benissimo le capacità e il valore. Dopodiché sicuramente noi andremo domani ad affrontare la partita col piglio giusto, con quella voglia, con quella determinazione, con la cattiveria che fino ad oggi ci ha contraddistinto, ci ha dato dei vantaggi, ci ha dato dei buoni risultati e abbiamo lavorato anche questa settimana per far sì che domani a questo appuntamento importante, a questo appuntamento atteso probabilmente dall'estate scorsa, dobbiamo sicuramente arrivarci nel migliore dei modi. Al di là poi di quelle che saranno le assenze per i vari infortuni e squalifiche, ma chi giocherà domani dall'inizio e chi subentrerà sicuramente farà la sua parte. Sono praticamente quei giocatori che stanno facendo fatica ora a recuperare, ma che credo che a breve rientreranno. A questi si è aggiunto purtroppo Ruggero, che è venuto un po' malconcio dalla partita di domenica. Però sono sicuro che quelli che andranno in campo, ripeto, daranno un contributo importante perché li ho visti determinati, li ho visti vogliosi, li ho visti molto concentrati e sono sicuro che poi al di là di quelle che sono le motivazioni già della partita in sé saranno pronti e carichi per dare il proprio contributo.